Andiamo a parlare di baseball, l'altro sport principale del mio canale perché la MLB, la Lega Professionistica Americana, ha annunciato ufficialmente il calendario della stagione 2020. La MLB verrà ricordata in quest'anno per aver disputato la stagione più corta di sempre e nella giornata di ieri la Lega ha dato appunto il via al calendario e l'ha presentato. Dunque in questo video presenteremo le partite di cartello da tenere d'occhio in questa stagione e anche appunto il calendario per ogni squadra che appunto verrà appunto a giocare nel campionato 2020. Le 30 squadre appunto avranno 60 partite da disputare, le prime che scenderanno in campo sono le 4 che vedete nella schermata del sito di MLB.com. L'opening day sarà nella notte tra il 23 e il 24 luglio ovviamente seguendo gli orari italiani nella serata del lunedì 23 per quanto riguarda invece gli Stati Uniti. Le partite di cartello che appunto ESPN trasmetterà saranno Yankees Nationals e Giants Dodgers. Ovviamente i Nationals giocheranno in casa al National Park contro gli Yankees e i Dodgers affronteranno i Giants al Dodger Stadium in una delle grandi classiche del baseball americano. Quello che però più conta è come è stato programmato il calendario in questa stagione molto atipica di 60 partite. Io vi ricordo che 60 partite sono meno di una stagione regolare normale di NHL ed NBA. L'MLB, il baseball americano di solito gioca 162 partite in condizioni normali. Come detto 60 partite di stagione regolare con appunto ogni squadra che dovrà affrontare un calendario ben preciso. E qui ci aiutiamo con l'articolo di ESPN che ci dice appunto che ogni squadra dovrà giocare 40 partite in totale contro ciascuna squadra della propria divisione per arrivare appunto quindi alla prima tranche di stagione. La seconda tranche di stagione invece sarà fatta di partite di Interlega ma con squadre della stessa zona geografica. E qui vengono appunto in aiuto le divisioni che appunto dividono di fatto gli Stati Uniti in tre macrozone est, centro e ovest. Di conseguenza le squadre dell'American League East affronteranno le squadre della National League East e così via per l'American League Central e la National League Central. Stessa cosa per l'American League West e la National League West. Come detto appunto l'opening day sarà il 23 di luglio e la postseason non cambierà il format tradizionale quindi ci sarà il classico wildcard game che decreterà di fatto lo spareggio per vincere e arrivare ai playoff 2020. Dopodiché ci saranno le serie al meglio delle 5 partite, le division series, le championship series al meglio delle 7 e ovviamente la world series al meglio sempre delle 7 partite. La regola che cambia per questa stagione 2020 è questa ed è una regola che per una Lega in particolare va appunto a stravolgere. Il DH, il battitore disegnato che era presente soltanto in American League sarà effettivamente presente dappertutto. DH universale e quindi anche la National League che è sempre stata la Lega che ha fatto battere i lanciatori per questa stagione dovrà adattare appunto la regola del battitore disegnato. Infatti anche alcuni acquisti di alcune squadre sono state tarate proprio per questo motivo. Altra regola importante che verrà rispettata in questo 2020 sarà che tutte le volte che si andrà agli inning supplementari, agli extra inning, ci sarà un corridore in seconda base in partenza per appunto iniziare la parte supplementare del match. Quindi sono due regole che di fatto vanno a stravolgere un po' quella che è il forma tradizionale della Lega in quanto MLB, però capiamo bene che appunto con un protocollo così stagione dal punto di vista sanitario ci sta anche un cambio di regola dal punto di vista appunto della Lega in quanto metodo di gioco. Io ho parlato però del calendario in via teorica parliamo del calendario in via pratica e prendiamo la grafica di MLB.com che appunto ci fa vedere il calendario dei Mets e non è assolutamente una cosa fatta apposta. I Mets sono una squadra che fanno parte della National League East e quindi 40 partite dovranno essere fatte con gli avversari divisionali, in quel caso Atlanta, Philadelphia, Washington e Miami e così abbiamo fatto le prime 40 partite. Le altre 20 saranno fatte per forza con le squadre della American League East della stessa zona geografica e chi c'è in American League appunto della sezione East? Ci sono i New York Yankees, ci sono i Boston Red Sox, ci sono i Tampa Bay Rays, ci sono i Toronto Blue Jays e ci sono i Baltimore Orioles. Questa tabella, questa schedule va applicata per ogni squadra della National League e dell'American League. Prendiamo l'esempio di un'altra squadra, i Los Angeles Dodgers che giocano nella National League Divisione Est dovranno fare 40 partite con San Francisco, Colorado, Arizona e San Diego. Le altre 20 partite con le squadre della American League West, quindi l'altra squadra di Los Angeles, i Los Angeles Angels, gli Oakland Athletics, gli Houston Astros, i Seattle Mariners e ovviamente i Texas Rangers come ultima squadra. Il fatto di giocare con tante squadre nella stessa zona geografica fa sì che appunto ci siano tanti derby cittadini, per esempio il derby di New York, il derby di Chicago, il derby di Los Angeles e me ne sono dimenticati tanti altri. Però insomma, questo per farvi capire quanto questa circoscrizione sia alla base del calendario della stagione della MLB di 60 partite. In tutto questo, quali sono le partite da vedere, le partite massi come viene chiamato qui dall'articolo di ESPN? Subito c'è una serie importante, l'abbiamo già vista all'inizio di questo video, che è la serie tra Washington Nationals e New York Yankees. La serie si giocherà al National Park di Washington DC ed è una serie veramente incredibile perché gli Yankees sono una delle migliori squadre dell'American League. Vengono da un'uscita al turno di playoff contro Houston e affrontano i campioni in carica. La squadra del destino dello scorso anno che vinse per la prima volta una serie di wildcard, una serie di playoff, spazzando via addirittura Los Angeles Dodgers, Sandley Cardinals, comunque squadre importanti con più tradizione della squadra capitolina e hanno battuto gli Houston Astros che erano nettamente favoriti di quella World Series in gara 7 facendo saltare il fattore campo nella fortezza di Houston. È importante questa partita, questa serie, meglio, tra Washington Nationals e New York Yankees perché ci sarà un grande duello tra due grandi lanciatori, Max Scherzer da una parte per Washington e Garrett Cole che è un nuovo acquisto dei New York Yankees pagato uno sproposito, un contratto da 243 milioni per 9 anni. E sono tutte partite ovviamente che verranno trasmesse su ESPN. Le altre partite, le abbiamo viste per quanto riguarda l'Opening Day, c'è subito il mega derby, la mega rivalità tra San Francisco Giants e Los Angeles Dodgers. Le altre partite che ESPN trasmetterà per quanto riguarda l'Opening Day saranno Braves contro Mets, partita appunto dell'American League East, Milwaukee Brewers, Chicago Cups, altra partita molto interessante della National League Central e Los Angeles Rangers, Oakland Athletics come ultima partita dell'Opening Day della prima settimana. Saltiamo avanti di un mese perché ci sarà una partita di Interlega molto importante per lo stesso discorso che appunto abbiamo fatto prima della Interlega della stessa zona geografica le squadre dell'American League West e della National League West si dovranno affrontare per forza e tra queste non può che spiccare l'incontro tra due squadre veramente importanti ovvero Los Angeles e Houston. I Los Angeles Dodgers ovviamente, la squadra di Los Angeles ne parliamo magari in un altro momento, sono una squadra che viene da una serie di stagioni dove ha pagato veramente tantissimo i giocatori. I Los Angeles Dodgers hanno superato da anni gli Yankees nel monte stipendi e hanno sempre costruito una squadra per arrivare a vincere il titolo. Il titolo che non è mai arrivato dal momento che i Dodgers hanno perso negli ultimi tre anni due finali consecutive e sono usciti malamente nell'ultimo turno della scorsa stagione contro appunto i Washington Nationals alle Division Series in realtà quindi al turno addirittura delle cinque partite e non delle sette. Sarà sicuramente una partita importante perché parliamo di due squadre che nelle stagioni normali da 162 partite sono arrivate praticamente spesso in questi anni oltre le 100 vittorie. Altra partita interessante la vediamo nel weekend tra il 7 e il 9 agosto si sfideranno Oakland e Houston in un'armai classica dell'American League West tra due squadre che sono sempre state ai vertici più Houston che Oakland Oakland comunque occupa facilmente la seconda posizione in questa divisione dal momento che l'American League West è molto sproporzionata in favore di Houston sarà interessante vedere appunto Mike Fiers che gioca contro la sua ex squadra. Mike Fiers tra l'altro fu quel lanciatore che segnalò lo scandalo dei segnali rubati appunto alla Lega nella stagione 2017 quando Houston vinse il titolo. Quindi anche in questo caso c'è una storia nella storia da tenere d'occhio. Abbiamo parlato delle strati cittadine come partite da tenere d'occhio e una di queste la vediamo, il derby di Chicago tra White Sox e Cubs si terrà il weekend dal 21 al 23 agosto. Ovviamente sulla carta i Chicago Cubs sono favoriti va detto che i Chicago White Sox da sempre sono una squadra nella terra di nessuno hanno confermato comunque dei giocatori molto interessanti per esempio il suo cannoniere Abreu ma hanno fatto delle acquisizioni importanti Yasmany Grandal, ricevitore cubano molto interessante Dallas Koichel che è un lanciatore che a me piace tantissimo il battitore disegnato per eccellenza Edwin Encarnacion e anche un lanciatore ex Washington Nationals ovvero Gio Gonzalez insomma tanta carne al fuoco per i White Sox che magari quest'anno possono puntare magari a fare quel definitivo salto di qualità che non è mai arrivato. Altra partita di cartello importante Minnesota contro Cleveland in una sfida al vertice dell'American League Central sono le due squadre che in questi ultimi anni si stanno affrontando per il primo posto della division soprattutto nell'anno scorso, nel 2019 questo testa a testa è durato veramente fino in fondo e ci auguriamo che il weekend dal 24 al 26 agosto possa dare secondo me adito a una buonissima pariata tra l'altro 24-26 agosto sarà di fatto a metà di questa stagione abbastanza incredibile per certi versi altra sfida interna in una divisione è quella tra Tampa Bay e New York Yankees Tampa Bay è la squadra più in crescita della Lega dal mio punto di vista ha confermato un posto ai playoff battendo Boston che aveva vinto il titolo nel 2018 e questo è frutto dell'ottimo lavoro di Kevin Cash il manager di Tampa Bay Rays e affrontare New York Yankees di certo è interessante soprattutto se hai velleità magari di arrivare ai playoff per via diretta e non tramite i wild card come l'anno scorso come è successo con i Rays concludiamo velocemente il recap altra partita sempre interna alla National League East è Atlanta contro Washington Washington, l'abbiamo detto, campione in carica ma Atlanta è una squadra che è cresciuta veramente tantissimo che è arrivata ai playoff l'anno scorso dopo una vita e può fare secondo me il salto di qualità hanno comprato Marcello Zuna un esterno centro fenomenale i Braves e hanno appunto perfezionato altre acquisizioni come appunto per esempio quella di Don Smith Swanson che l'hanno confermato in squadra Ronald Acuna e Ozzy Olbis che sono di fatto dei giocatori cresciuti nel vivaio che lo staff di Atlanta si aspetta che crescono molto di più interessante che aveva tra Cincinnati e St. Louis perché St. Louis è tornato ai playoff dopo anni di anonimato e i Cincinnati si aspetta anche in questo caso un po' come i White Sox una crescita clamorosa i Cincinnati Reds da anni sono stati una squadra nell'anonimato più completo lottavano per l'ultimo posto della divisione della National League Central le acquisizioni hanno fatto sicuramente crescere sulla carta e il roster dei Cincinnati Reds bisogna vedere se queste acquisizioni poi sul piano pratico si riveleranno efficaci soprattutto Trevor Bauer che potrebbe essere l'uomo franchigia futuro dei Cincinnati Reds Trevor Bauer lanciatore che viene da Cleveland altra partita che qui ci segnala ESPN è un'altra partita che ormai è una semirivalità nella National League East ovvero Atlanta Braves contro New York Mets i New York Mets sono ancora una volta alla ricerca dell'identità clamorosa hanno sempre fatto una squadra per provare a tornare ai playoff dopo il 2015 non ce l'hanno fatta hanno puntualmente fallito anche l'anno scorso hanno fatto alcune acquisizioni Mets interessanti per esempio Melchi Cabrera una delle ultime e non solo cerchiamo di arrivare ai playoff speriamo dirigenza dei Mets fate qualcosa altrimenti io devo soffrire sempre in silenzio questo è il recap delle partite di cartello per quanto riguarda la Major League Baseball in una stagione che appunto partirà il 23 e il 24 luglio con solo 60 partite capisco che sono poche il baseball si sta riformando in tutto il mondo anche nel nostro periodo italiano ci sono anche qui poche squadre iscritte e molte meno partite rispetto al solito cerchiamo comunque di goderci la stagione della Major League Baseball 2020 anche se si rischia di avere probabilità di playoff rispetto alla regular season in ogni caso speriamo sia una stagione all'insegna di quello che venne chiamato ed è il meraviglioso gioco del baseball fatemi sapere che cosa ne pensate di questo recap delle partite più importanti di cartello che possono essere secondo voi i favoriti di questa stagione 2020 il saluto da parte di Matthew Thorgard prossimo appuntamento sul canale sportivo domenica alle 19 per il post gara del Gran Premio di Styria o Austria 2 di Formula 1